Di Umberto Saba, nata di gente antica e disperante. Nata di gente antica e disperante, fiore d'adolescenza, Lina è Rebecca senza anfora, e il suo pallore è affascinante. Con lei ti senti come alla tua casa fossi tornato, come se deposte le some degli anni e del dolore, ancora invasa fosse l'anima tua dei mesti sogni d'umiltà, di perdono. Tanto il suo sguardo è buono, che esser dei suoi, per meglio amarla, agogni. E non sai se il suo volto è, come pare, d'ogni volto il più bello. Ma come il buon cammello piega i ginocchi, tu devi adorare. Grazie. Grazie.